Potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di battaglia reale che su quello di Salva al Mondo utilizzando il codice Enrique Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bello a tutti ragazzi, Correghe che vi parla! Bentornati in questo nuovo video, pomeridiano in questo caso, dovevo farlo uscire al mattino ma non avevo ovviamente un'idea come al solito Comunque di un video al giorno diciamo che è complicata come cosa, però diciamo che di argomentazioni ora ne ho già molte in mente Alcune anche offerte da voi, quindi preparatevi a tanti video e allo stesso tempo tante live serali Chissà che poi vedrete anche delle Irle pomeridiane nei prossimi mesi e allo stesso tempo anche prossimamente, non per forza comunque tra mesi Oggi ragazzi sono qui con un video particolare Infatti ragazzi, la base di Ballarguda, che è praticamente la mia base diciamo principale, migliore di tutti praticamente gli account che possiedo E allo stesso tempo di cui ci ho messo molto impegno e ovviamente non l'ho neanche fatta da solo ma anche con l'aiuto vostro e anche con l'aiuto di miei amici Oggi sono qui per mostrarvi come è venuta Ovviamente la base non è ancora terminata, ma diciamo potete ben vedere già dalla mappa di che cosa stiamo parlando Praticamente se la vedete, vedete che ci sono praticamente solo ed esclusivamente strutture non normali Basta vedere la long base, che da lì ci sono tutti quanti colori bianchi e neri Ai lati ci sono tutte quante le piattaforme direzionali che se vi ricordate abbiamo messo con gli scudi E addirittura c'è ancora un altro scudo, quindi sono pronto per fare tante altre belle cose Per fare comunque altre strutture doppie fighe E oggi sono qui allo stesso tempo come avrete visto comunque dal titolo copertina Che abbiamo una particolarità, infatti ho doppio pilastro Infatti ora come potete ben vedere la base sta venendo molto, ma molto 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 bene Guardate che roba Le scale ovviamente dovrò piazzarle in modo differente Perché ho intenzione, infatti là per sbaglio ho rotto, di fare della specie di DNA Possiamo già vedere da qui Che praticamente parte da ogni, cioè, ogni lato avrà due DNA fatti di scale E sono retti da quel, diciamo, blocco di legno là Come vedete la struttura praticamente generale è formata da muri con non solo una struttura Ma bensì anche più di quattro Qui sotto ad esempio abbiamo quattro strutture Ok? Qua sotto quattro strutture, doppia piramide E dall'altro lato stessa cosa che vedete qui Poi su quattro strutture Qua sopra abbiamo ben tutte strutture al contrario Non è neanche una struttura normale Perché questa qui, cioè, non è normale come struttura, ripeto È venuta veramente bene, ma molto bene Trappola al contrario Di cui poi ora vi farò vedere anche lì E la cosa particolare è qui Infatti se io mi metto qua sopra Potete ben vedere che abbiamo due pilastri Ok? Questi due pilastri hanno una particolarità Che quello, ok? Quello e quello sembrano normali Ma se io mi avvicino ancora un po' E punto a quello, ok? Vedete che è normale Ma se punto a questo Cioè, vedete che è doppio Infatti ragazzi, fortunatamente con uno scudo che avevamo Siamo riusciti a mettere ben due pilastri nello stesso punto Penso sia una delle cose, penso, migliori che sia riuscita Cioè, è veramente bella, guardate Cioè, abbiamo un doppio pilastro Abbiamo scelto di mettere ferro e legno Perché erano praticamente i due pilastri, diciamo, migliori per questa cosa Perché andare a mettere un pilastro di, ecco, di pietra E vi faccio vedere anche il perché La base è fatta in questo modo Trampolini direzionali per saltare Per muoversi da tutti i lati E ora la vediamo nel dettaglio, guardate Cioè, è venuta molto bene Diciamo che questa è la parte principale Poi dovrò fare tutte quante le mie migliorie Vedete quanto è grande il pilastro di pietra È praticamente un... Cioè, proprio il centro del blocco Ma è enorme Quindi mettere questo avrebbe coperto addirittura entrambi Sia questo che quello in legno Ovviamente ai lati ho messo solo quelli di ferro Che secondo me ci stavano Mettere quelli di pietra all'uno Mi faceva veramente... Non mi piaceva Quindi ho deciso di non metterli Ora piazzerò altre cose, ovviamente Ma devo ancora capire come E utilizzare lo scudo a mio piacimento Per fare anche robe doppie Tipo anche scale doppie Cioè, immaginatevi fare una roba del genere La sua è diversa la situazione Infatti vorrei fare Vorrei fare un punto in cui si può salire Perché la sua è veramente figa Adesso vi faccio capire di che cosa parlo Allora Diciamo che qui muoversi è diciamo particolare Qui ad esempio abbiamo messo trappole così Opla, volevo mettere un qualcosa per salire qui Perché poi qui è praticabile Perché qui si può salire poi In questa maniera Guardate che bello Si può scendere E salire sia da un lato che dall'altro Senza problemi Cioè è veramente Veramente bello Guardate che roba Qua potete poi vedere la base tutta dall'alto Lì devo fare ancora un'altra struttura DNA Che guardate che belle Sono proprio carine Ci sta Sono molto contento del risultato E oltretutto È proprio tutto doppio Tutto doppio Guardate queste piramidi qui Questa tecnica di fare le piramidi in questa maniera L'ho vista da un americano Perché ho visto Caspita Ha fatto delle piramidi doppie Guardate che cosa sono uscite Cioè le ho rifatte E sono uscite proprio come volevo Molto molto belle Qua strutture doppie Una normale Una no Piramide in mezzo Sotto è bucato E ovviamente si può anche entrare volendo Qui tutte strutture doppie Trappola al contrario Dentro allo scudo ho le strutture Ok Tutte trappole al contrario qui Veramente è venuta molto bene Però ho un sacco di accorgimenti ancora da fare Voglio ovviamente mettere all'interno di questa base Tutte ma veramente tutti i metodi di trappole che so E che comunque esistono nel gioco Tutti 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 Dalla prima all'ultima Che ci sia anche Quella trappola un poco più alta dell'altra E fare comunque Ecco Dare un senso a questa base E oltretutto vorrei mettere un altro pilastro di legno all'interno di questo Assolutamente Che come potete ben vedere Diciamo che Solo ferro è brutto Se mi avvicino con legno è bellissimo Sembra che Si sta mangiando il pezzo di ferro a legno È veramente bello La base è fatta tutta uguale Fortunatamente simmetrica E vorrei tirare fuori una recinzione Fatta in questa maniera Che ho visto dalla base di Lady Mary Che è veramente bella Questa recinzione fatta in questa maniera E addirittura Qui ci sono ben 5 strutture Quindi qua ci sono 5 10 15 20 25 Continua così Sono tutte e cinque strutture Perché qui c'è pure un muretto alto Al contrario Che praticamente sorregge Questo Questa doppia dinamo Che ho messo sia da una parte Che dall'altra Che ovviamente non posso più modificare Ho messo sia Zappo Marx Che dinamo alternate Cioè è venuto un bel risultato Trappole doppie Molto bella questa cosa qui Cioè trappole doppie Trappole a contrario Ho messo due di qui Come salita Questi pilastri in legno Con questi archi Molto bello Quindi la salita è bella Guardate Poi si entra di qui E si inizia a saltare E questa penso sia anche Un'altra cosa molto bella Da fare Con i pilastri Le strutture doppie Sicuramente andare a mettere il pilastro A fare lo scudo Romperlo E mettere una piramide Il risultato è eccellente Guardate che roba Io con questa piramide Ci posso fare quello che voglio Posso anche lasciarla così Però no Mi piace di più così Veramente bello E veramente figo L'avrei fatto anche di qui Ma purtroppo Non c'è un pavimento naturale Quindi no Lascio tutto naturale Così com'è Molto bello ragazzi Molto 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 bello Prima di passare Alla sotto Che vi faccio vedere Anche un po' in generale Qui Ci sono tutte quante le trappole Ecco Con Qui ci sono un sacco di muri Questa roba qui Occupa un sacco di strutture E voi penserete Devo praticamente fare Tutta la recensione intorno La base diciamo Che avrà poche strutture Diciamo disponibili Ma perché sono tutte Incentrate al centro della base Ed è questo il bello La base non deve essere esagerata Ho fatto un angolo lì Molto bello Comunque nell'arco dei miei scudi Insieme comunque a voi Salendo qui Ho fatto una scala Proprio apposta qui Guardate Qua è tutto doppio I pavimenti compresi Sono tutti doppi Come vedete Però si vedono dall'alto Qui Qua si dirama Doppia porta E' nascosto dentro al muro Vedete E poi si sale Qua è tutto doppio E si sale ancora Qui vorrei fare un qualcosa Che comunque Dia un senso al ciò Che porti in alto Però volevo farlo anche dall'altra parte Guardate che bello Cioè proprio un bel risultato Uscirebbe Molto bello E diciamo che la base Diciamo è qui È così Qui ragazzi abbiamo Praticamente tutte trappole Da pavimento Ok Piazzate al contrario Infatti ragazzi Se io mi reco sotto Potete ben vedere Che sono riuscito a mettere Ecco Alternati questi Alternati questi E qua due curative Sembrano uno sponky Ma alla fine Ecco Il bello è vedere proprio questo Vedere le trappole in questa maniera Molto bello Di qui ho invece messo un anti-aereo Al contrario Anche lei è molto carina In questa maniera Molto bella In generale la base è molto bella Esternamente È bellissima Ora vorrei fare una recinzione Come vedete I pilastri in pietra Le ho solo messi esternamente Dove andrò a mettere Le piramidi sopra Con gli scudi E poi Gli ho messi solo nei punti Che come vedete Sono le entrate effettive Per entrare all'interno dello scudo E il risultato è ottimo Sono soddisfatto E ringrazio tutti quanti I collaboratori Di questa comunque Mega base Che siamo riusciti a costruire Tutti insieme Con metodi Mica metodi E con l'aiuto comunque Di miei iscritti anche Veramente sono soddisfatto Veramente tanto E vorrei farvi anche vedere Un'altra cosa Farvi vedere il risultato Comunque dell'interno Che come vedete Mi è venuta la pazza Diciamo decisione Di fare Lì come c'è pure qui Ed è come anche esternamente Secondo piano Come è qui Anche esternamente Il piano superiore Cioè questo Ok Come vedete Qui l'ho fatto in questa maniera Che alla fine è esterno Ma internamente Perché diciamo È il punto In cui si Sta di più Volevo fare Qualcosa di visuale Molto carino E mi è uscita Questa cosa qui Proprio mentalmente Ho detto Facciamo una cosa figa Visto che comunque Le trappole Quelle direzionali Hanno praticamente Mezzo blocco Di diametro Ho deciso Di metterne Una piazzata Su quel pavimento Una piazzata Su quel pavimento E farla Che vada sotto Quindi Immaginatevi La direzione E aspettare Il punto preciso Per cliccare Per buttarla sotto E fare i doppi muri Che è molto semplice Il risultato È questo ragazzi Molto bello Guardate Guardate che roba Tutto Tutto fatto In questa maniera Sono molto soddisfatto Ragazzi E ditemi anche voi Sotto nei commenti Cosa ne pensate Il video era incentrato Su questo Perché questa qui è tanta 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 roba Onestamente Non so che succede Se io dovessi rompere Questo pilastro qui Perché ragazzi Se io dovessi rompere Questo pilastro qui Come vedete Mi cerchi di rossolo Quello in legno Mi dovrebbe piazzare Alla piramide Cosa che non voglio fare Perché comunque Per fare queste robe doppie Addirittura con strutture Mai rilasciate È una vittura Di coglioni ragazzi Non ovviamente Non vado nello specifico Ma è veramente Una palla Assurda Suprema Quindi ragazzi Ditemi cosa ne pensate Sotto nei commenti Il video l'avete visto Ovviamente di poveriggio Ogni mattina Però allo stesso tempo Ecco Sono soddisfatto Del risultato Ringrazio tutti quanti I collaboratori E tutti i miei iscritti Che comunque Hanno dato Una mano enorme Nel compimento Nel compimento di questa Grande operazione Di building Di una base Penso Una delle basi migliori All'interno di questo gioco Anche se Devo dire la verità Mancherebbero le strutture Di una volta al contrario E allora lì Ci sarebbero tutti i metodi E voi dite Eh ma devi fare anche Le strutture di vetro Ci arriveranno anche quelle E attenzione Ne farò veramente tante Che avevo in mente Di fare strutture doppie Ok Come in questa maniera Ok Tutte di vetro Che circondano L'intera base Come se fosse Un cubo di vetro Dove all'interno Era chiuso Il cuore della base Che è questo Avrebbe molto senso Ma avrebbe comunque Anche uno spreco Di strutture elevato Quindi ragazzi Dite mi sotto nei commenti Cosa ne pensate Qui c'è poi una struttura Al contrario Molto carina Di cui ne farò tante E avevo in mente Di metterle tutte intorno Qui Mettere tutte qua Intorno A struttura al contrario Però boh Devo ancora valutare Devo ancora valutare E niente ragazzi Quindi da rega è tutto Bella rega Io mi ringrazio Della visione Ci vediamo stasera in live Alle 9 Per giocare insieme E per scambiare specialmente